Ciao ragazze! Oggi vi mostro alcuni acquisti che ho fatto da H&M per il Black Friday. Poi prima cosa ho preso questa borsetta raga, pazzesca, bellissima, cioè io adoro, bellissima, effetto smaltato di un azzurro delicato, cioè, raga, cioè, cioè, voglio dire. Poi ho preso questo maglioncino super super caldo di questo grigio chiarissimo, anche se io lo cercavo tipo beige, ma non l'ho trovato, ma ragazze, è super super caldo, super super comodo, e poi è come piace a me, ha quell'effetto un po', diciamo, un pochino lungo, che copre un pochino, insomma, ha fatto quell'effetto un po' malica, un po' lunga, mi piace, insomma. Poi, raga, ne vogliamo parlare, ma ne vogliamo parlare di questi orecchini super super fighi, per Natale. Cioè, adoro, troppo. Poi sono andata in un altro negozietto, sempre nella mia città, e ho preso questo paio di leggings, semplicissimo, felpato, nero, black, total, total black, io adoro il black, mi piace troppo, anche se mi piacciono anche altri colori, felpato, perché io sono super freddolosa e sono elasticizzati, quindi top. Poi, raga, non poteva mancare questo cardigan, bellissimo, con i bottoncini, bellissimo. Io adoro le camicie, quindi questo qui con una bella camicia sotto e questo qui di sopra è bellissimo, tipo color caffè-latte. spettacolare, cioè, proprio, proprio bello, mi piace troppo. Faccio vedere indossata, cioè, ma quanto è comoda, ma poi quanto è comoda. Spettacolare, raga, cioè, di una comodità spaziale, ma poi bella, proprio comoda, bella, con i bottoncini, potete attaccarli. bella, bella, raga, piace troppo, bellissimo. Ce n'erano di tantissimi colori, c'era nero, bianco, verde, viola, anche c'era anche viola, tipo un viola, tipo lilla, ma non mi piace tanto. Questa qui, secondo me, era quella più carina, tipo color caffè-latte, bello, mi piace. E c'erano veramente un sacco di chicche, ragazze, comunque vi ho lasciato anche delle foto, sempre qui sul profilo, dove vi ho fatto vedere anche veloce veloce quello che avevo preso. Raga, adoro, sono contenta di aver fatto gli acquisti per il Black Friday, perché io di solito non li faccio mai al Black Friday, come si dice, ma li faccio sempre gli acquisti, non è che guardo tanto queste cose, ma ho voluto prenderle assolutamente, perché ce n'erano delle cose spettacolari. Quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, 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 ciao.